L'ultima puntata del Cammino Neroverde ci porta al racconto del segmento finale della stagione del Bitonto nel gironi H di Serie D. Abbiamo lasciato la ciurma di Mr. Taurino la volta scorsa al primo posto con 5 punti di vantaggio sul Foggia dopo il poker rifilato alla Nocerina. Il margine rimane invariato anche dopo la ventitresima giornata, disputatasi il 9 febbraio. Il Bitonto va nella vicina gravina per affrontare i falchetti giallo-blu, avversario difficile che due settimane prima aveva battuto proprio i rossoneri di corda. Ma i neroverdi sulla murgia si rendono protagonisti in una prestazione tutta a cuore, orgoglio e carattere. Una prova commovente dei ragazzi di Mr. Taurino, supportati da oltre 400 Bitontini. Partita scorbutica ma un guizzo di turito in mischia nel primo tempo fa saltare il banco. Bitonto avanti che nella ripresa difende il prezioso vantaggio e sfiora più volte il raddoppio. Al triplice fischio finale è grande festa. Popolo Bitontini in estasi, respinto l'assalto del Foggia vittorioso a Taranto. Da gravina il Bitonto lancia un segnale bellissimo al campionato. Foggia meno 5, Sorrento meno 9, Audace Cerignola meno 10. Ma la Serie D e il Gironi H in primis insegnano che nulla si può dare mai per scontato. E la gara casalinga contro il lanciatissimo Cerignola riapre qualsiasi discorso e rimette tutto in discussione. Gli Ofantini passano al Città degli Olivi grazie alla rete di Rodriguez nata da un'indecisione difensiva della retroguardia neroverde. Unica e rara sbavatura in un campionato da grandi numeri. Ma il Bitonto paga anche tanta sfortuna perché contro una diretta rivale deve rinunciare a Patiano e Lattanzio, ovvero la coppia d'attacco titolare. Il primo fermato da infortunio, il secondo out per squalifica. Mercai e Bollino ci provano ma senza trovare la via del gol. Il Foggia vince e si porta a meno 2. Stessa cosa la fa il Sorrento ora a meno 6. Il Cerignola risale a meno 7. Il Bitonto forse accusa il colpo. Si interrompe dopo 19 giornate la striscia positiva dei risultati utili consecutivi. E a Taranto i neroverdi soffrono più del previsto contro un buon avversario ma senza ormai grosse velità di classifica. In Rivaloioni i neroverdi ringraziano Figliola e Legni e strappano uno 0 a 0 che serve però per allungare di un piccolo passo sul Foggia che torna a meno 3. Il Cerignola batte il Sorrento e si porta a meno 5, sempre più minaccioso. Intanto termina febbraio. Nel frattempo in Italia ci si interroga sul futuro visto il diffondersi dell'emergenza coronavirus e si scende in capo con dubbi su quel che ne sarà. Domenica 1 marzo. Al Città degli Olivi arriva il Brindisi. Gara da expert a Urino che rimescola le carte e cambia 4 undicesimi per dare riposo ad alcuni suoi elementi. Gli ospiti vengono nella Città dell'Olia a caccia di punti salvezza e sbloccano il punteggio nella prima frazione di gioco con la voleda fuori di Ancora. Nella ripresa è assalto disperato del Bitonto. Il pareggio arriva sul calcio di rigore guadagnato da Lattanzo e trasformato da Patierno. E 1 a 1 il risultato non cambia nonostante i tentativi forse nati dei bitontini. Arriva solo un punto accolto con qualche mugugno ma che a conti fatti potrebbe valere la storia. Perché il campionato si ferma qui e da quel primo marzo non c'è stato più calcio giocato. La palla ora passa ai verdetti ed il Bitonto che al momento della sospensione si è fermato ha più 1 sul Foggio, più 5 sul Sorrento e più 6 sul Cerignola attende con ansia in trepidazione. Perché proprio quel punto strappato al Brindisi potrebbe valere una stonica promozione in Serie C. Quei professionisti che a Bitonto, i 99 anni di storia, mai sono stati disputati. Un traguardo pazzesco ma meritato se si riavvolge il nastro di questo racconto e si torna indietro a quella terza domenica di ottobre, al giorno dedicato ai Santi Medici. Il giorno in cui Bitonto si è portato in testa la classifica e lì ci è rimasta. Grazie.